Nessuna crisi di maggioranza ma un normale riassetto fisiologico dopo le elezioni regionali con due assessori che hanno lasciato la giunta comunale dopo il voto del 10 febbraio entrati nella giunta di Marsilio, Emanuele Imprudente e Guido Quintino Liris. Nessuna crisi dunque, ribadiscono l'assessore al commercio Alessandro Piccinini e il presidente del consiglio comunale Roberto Tinari. La Lega ha chiesto gli stati generali di tutti i partiti e gruppi politici per procedere con il riassetto della giunta. L'auspicio è che la riunione si tenga entro lunedì 18 marzo, il più presto possibile per poter risolvere l'ampassa amministrativa che si trascina da settimane. Al centro degli stati generali ci saranno la verifica di mandato, una riflessione sui programmi e gli obiettivi dell'amministrazione da portare avanti di cui a fine mandato se l'amministrazione riuscirà a uscire indenne dalla sua crisi. Per Piccinini e Tinari non sono le poltronne il nostro obiettivo ma i programmi, le risposte da dare ai cittadini. L'altra questione che farà da discrimine anche per il riassetto politico è lo stanziamento dei 10 milioni di euro per minori entrate e maggiori spese determinate dal terremoto del 2009. Lo stanziamento delle risorse per il riequilibrio del bilancio comunale, come ha spiegato il sindaco Pierluigi Biondi nel suo comunicato stampa dovrebbe essere inserito all'interno del decreto Etna e calendarizzato al massimo entro la metà del mese, cioè entro domani. Addirittura, spiega Tinari, gli uffici comunali avrebbero predisposto due diversi documenti finanziari, uno tenendo conto dei diversi capitoli di spesa dell'entrata dei 10 milioni, un altro senza tale stanziamento e dunque un documento che prevederebbe l'aumento delle tasse per i contribuenti aquilani, un'ipotesi che Biondi vorrebbe a tutti i costi scongiurare. A proposito della crisi di maggioranza, Biondi fa un appello al senso di responsabilità delle componenti. Intanto ieri pomeriggio le opposizioni hanno occupato l'aula del consiglio comunale chiedendo le dimissioni di Biondi e chiamando a raccolta anche la cittadinanza.